Quando noi parliamo dei primi uomini preistorici che hanno frequentato il territorio vittoriese, ci rifacciamo popolazioni nomade che si muovevano su ampi territori, per cui non è circoscritto al puro centro di Vittorio Veneto, ma si estende in territori più ampi e più vasti, come ad esempio l'Altopiano del Cansiglio, dove abbiamo fatto i ritrovamenti più antichi, cioè le tracce dei primi uomini di Neandertal, paleolitico medio, un periodo che va da 150 a 50 mila anni fa, poi successivamente abbiamo trovato anche le tracce escavate, indagate, attraverso scavi con l'Università di Ferrara e la soprintendenza, degli uomini della fine del paleolitico superiore, circa 12-13 mila anni fa. In seguito gli scavi sono stati indirizzati verso un momento storico, un pochino, anzi pre-storico, un pochino più recente, che è il mesolitico, tra gli 11.500 e i 7.500 anni fa e abbiamo trovato circa una ventina di siti di questo periodo. Successivamente, ecco, arriviamo proprio nel territorio di Vittorio Veneto, a Serravalle, in periodo neolitico. Nel neolitico inizia l'agricoltura, una forma di economia nuova, agricoltura, pastorizia, allevamento e fioriscono tantissimi siti, soprattutto nella fascia collinare. Siti anche di grande importanza, come quello di Tarzo di Col Maggiore, che è stato scavato dalla soprintendenza, che ha restituito oggetti di cultura materiale molto interessanti, come selci, punte di freccia, ceramica.